Iorio sulla sanità impugniamo il balduzzi lo ha dichiarato l'ex presidente della regione a proposito del caos in cui è piombato il settore il responsabile del fallimento e frattura ha detto Iorio trivelle in mare vertice dei governatori i presidenti delle regioni bagnate dall'adriatico si sono incontrati a termoli con frattura emiliano d'alfonso e gli europarlamentari classifica degli atenei palmieri soddisfatto i laureandi promuovono l'università del molise seconda nel gradimento degli studenti posizione intermedia nel giudizio generale speriamo nelle istituzioni ha detto il rettore il dente del paleolitico tornerà a isernia il reperto del bambino trovato alla pineta sarà riportato in città sarà messo sotto chiave ha detto carlo peretto perché il valore è inestimabile iscrizioni in eccellenza servono ripescaggi termoli big del campionato molte defezioni rendono necessaria un'integrazione l'agnone attende la lega per tornare in serie di montaquila e toro spariscono buon pomeriggio dalla redazione di tele molise edizione delle 14 del nostro telegiornale sanità sempre in primo piano con lo scontro a distanza tra l'ex governatore michele iorio e l'attuale presidente della regione paolo frattura quest'ultimo accusato di aver fallito su tutta la linea iorio ha annunciato il ricorso contro il regolamento attuativo del decreto balduzzi un provvedimento che segnerà la fine della sanità molisana tutti i dettagli nel servizio di anna maria di matteo frattura sbagliato tutto sulla gestione della sanità cominciare da rientro dall'isavanzo per finire alla riorganizzazione della rete ospedaliera l'ex governatore michele iorio più volte accusato dall'attuale presidente della regione di essere l'artefice del disastro in cui è finita la sanità passa al contrattacco rispondendo per le rime primo punto l'attuazione del decreto balduzzi il provvedimento spazierà via in un solo colpo la maggior parte degli ospedali molisani ridimensionando quelli che invece resteranno aperti una situazione alla quale frattura avrebbe dovuto porsi quando ne ha avuto la possibilità ma che invece accettato senza battere ciglio allora ci penseranno altri a farlo al posto suo michele iorio partiamo dal regolamento attuativo del decreto balduzzi siete intenzionati come consiglieri regionali ma anche come cittadini ad impugnarlo ma sì non stiamo andando avanti se stiamo facendo studiare l'iter da seguire abbiamo atteso inutilmente che lo facesse il presidente frattura e quale invece sta facendo tutt'altro tranne che questo lascerà in eredità una un grave minus nella sanità regionale una regione cioè che non ha più titolo ad avere una sanità decorosa e di livello così come tutte le altre regioni italiane noi ci preoccupiamo per questo per cui faremo questo tipo di attività sperando che a questa iniziativa si unisca anche la regione ma dubito da come stanno andando le cose punto secondo l'accensione di un mutuo da parte della regione a carico dei molisani per tentare di rientrare dal disavanzo così come imposto con un vero e proprio atto d'imperio dal tavolo tecnico nazionale un provvedimento che secondo Iorio grida vendetta per l'ex governatore anche in questo caso frattura imboccato la strada sbagliata quella senza via d'uscita. Accettare la consistenza e il pagamento a totale carico della regione di quel disavanzo è un doppio errore prima perché quel disavanzo non è calcolato secondo alcuni aspetti che io ho più volte sollevato e contestato al tavolo tecnico. Secondo perché quel disavanzo è dovuto a una sottovalutazione del fondo regionale e non a un disservizio come dice il presidente frattura a una cattiva gestione del passato. Lui dicendo questo danneggia se stesso e la regione perché non raggiunge l'obiettivo. Il problema della sanità che i servizi costano e quei fondi che abbiamo utilizzato sono stati destinati ai servizi di qualità che sono aumentati in questi anni. È evidente che togliendo i servizi, chiudendo gli ospedali, non dando ai cittadini tutto quello di cui hanno bisogno poi alla fine si risparmierà. Ma il problema è che quel mutuo e quel disavanzo va risolto anche all'interno della legge sul federalismo fiscale di quella clausola per le piccole regioni che noi abbiamo insistito e abbiamo ottenuto quando eravamo al governo di questa regione per cui lo Stato si è impegnato a fare un fondo per le piccole regioni nella fattispecie Umbria, Basilicata e Molise in maniera tale da dare quel sostegno necessario che non si raggiunge con un'economia di scala sui servizi essenziali della regione stessa. Io credo che questa debba essere la strada, chiedere al governo le ragioni perché questo fondo non si è realizzato e non andare blaterando in giro che è colpa di Iorio. È colpa di chi oggi non capisce di che cosa sta parlando. Un fronte comune tra le regioni per affrontare il problema delle trivellazioni nel mare Adriatico. Dalle Marche alla Calabria governatori e assessori si sono incontrati a Termoli per decidere le azioni da portare avanti con il governo e a livello europeo. Ospite anche l'euro parlamentare Ivan Jakovcic. Sentiamo Fabrizio Chionero. La difesa del mare Adriatico dalle trivellazioni parte da una strategia condivisa tra gli enti locali che devono fare fronte comune a tutti i livelli istituzionali. Un impegno ribadito a Termoli dai rappresentanti delle regioni che vanno dalle Marche alla Calabria. Un tema molto sentito dalle comunità e dalle associazioni che pone al centro il concetto di sostenibilità ambientale ma anche lo sviluppo del territorio. Il tavolo interregionale è stato organizzato dalla regione Abruzzo. Anche la strategia europeista punta fondamentalmente a difendere il mare blu. Da tutto ciò che lo mette a rischio. Tra questo noi citiamo in alto in agenda il rischio della collocazione di piattaforme petrolifere. Noi vogliamo che questo mare, il mare dell'Adriatico e dell'Oionio, sia la più importante capacità di attrazione di cui si dota. È stato dotato il nostro mare, il nostro turismo, la nostra straordinaria bellezza. Oggi siamo di fronte a un decreto emanato dal Ministero dell'Ambiente rispetto al quale lancia l'ipotesi del referendum voluto da cinque regioni, la regione Abruzzo. Discuteremo anche di questi. Convinto come sono però che con il governo ci sia tutta la possibilità di costruire un percorso condiviso. Presenti tra gli altri il governatore della Basilicata Marcello Pittella, il vicepresidente delle Marche Anna Casini, gli assessori regionali dell'Ambiente e il sindaco di Termoli Angelo Sbrocca che ha ribadito la posizione contraria della città. Così il neopresidente della Puglia Michele Emiliano. Ovviamente se lo Sblocca Italia viene inteso come una specie di bulldozer che serve a travolgere tutti i tipi di controllo, tutte le decisioni delle popolazioni del territorio che deve accettare un'opera o come in questo caso una trivellazione, è chiaro che lo Sblocca Italia a questo punto viene adoperato in una maniera che diventa inaccettabile. E secondo l'europarlamentare croato Jakovcic un percorso condiviso è possibile. Purtroppo non abbiamo visto ancora una cooperazione fruttuosissima tra i nostri paesi e tra le due sponde dell'Adriatico e se qualcosa accadrebbe di negativo tutti avremo grossi danni, per cui io sono convinto che dobbiamo fare qualcosa insieme, che l'Italia e la Croazia soprattutto ma anche altri paesi devono avere un centro di coordinazione e di reazione immediata se qualcosa di negativo accade nell'Adriatico. Nella graduatoria stilata dal sole 24 ore sulle università italiane, l'Unimol si è collocata in una posizione intermedia e al secondo posto nel gradimento dei laureandi. Soddisfatto il rettore Gian Maria Palmieri è apparso fiducioso sul mantenimento delle promesse economiche fatte dalle istituzioni. Ascoltiamo il servizio di Giovanni Minicozzi. La classifica stilata da sole 24 ore relativa a 61 Atenei italiani colloca l'Unimol in una posizione intermedia ma spiccano alcuni parametri che proiettano l'Università del Molise nella top 10 e addirittura al secondo posto assoluto nel giudizio dei laureandi. Soddisfatto il rettore Gian Maria Palmieri che tuttavia ha ribadito l'impegno di voler continuare ancora a lavorare alacramente per migliorare la qualità della nostra università nella consapevolezza del limite di alcuni indicatori statistici e tenendo conto del contesto sociale, economico ed istituzionale. Siamo nella parte medio-bassa della classifica come l'anno scorso ma abbiamo tre top 10, addirittura siamo al secondo posto come giudizio dei laureandi sulla qualità dell'Ateneo, secondo posto su 61, siamo al settimo posto in Italia come attrattività da fuori regione, siamo all'ottavo posto in Italia come capacità di inserimento dei nostri studenti in stage e tirocini. Paghiamo il contesto territorale in cui operiamo che è un contesto che per esempio non offre ai nostri giovani laureati una possibilità di inserimento nel mondo del lavoro neanche lontanamente paragonabile a quella dei loro colleghi di altri Atenei. Posizione intermedia 44esimo posto per l'occupabilità dopo un anno dei laureati. Le università misurate sono 61, porci al 44esimo posto nel contesto in cui opera l'Università degli Studi del Molise è un risultato eccezionale. Un laureato a 24 anni si può inserire nel mondo del lavoro molto più facilmente di un giovane che si laurea a 29 e a 30 anni. Per laurearsi in tempo occorre qualità dell'insegnamento, dei servizi ma anche il tempo che lo studente può dedicare allo studio, tempo che nel territorio in cui risiede ha a maggiore disposizione. Da migliorare invece il 58esimo posto ottenuto per l'alta formazione, la ricerca e la percentuale degli idoni che hanno ricevuto la borsa di studio. Ciò è legato però direttamente ai finanziamenti disponibili e al ruolo delle istituzioni, regioni in primis verso la quale Palmieri appare ancora fiducioso di vedere rispettati gli impegni economici promessi. Siamo impegnati a costruire dei percorsi, alcuni sono già in piedi e siamo fiduciosi ancora rispetto alla messa in esecuzione di questi accordi. Chi non auspicherebbe un maggiore impegno della regione e degli enti locali per l'Ateneo di questa regione. Però confidiamo nella collaborazione degli altri attori della regione, del comune di Campobasso. la collaborazione è sempre aperta e avverto sempre più crescente la consapevolezza del ruolo fondamentale che l'Università ha per la salvaguardia e lo sviluppo di questo territorio. Nuova disavventura per i viaggiatori della sventurata tratta ferroviaria a Roma-Campobasso. Ieri pomeriggio infatti prima di Cassino, a causa di una tromba d'aria il tronco di un albero è finito sui binari, il treno l'ha investito e si è fermato subito dopo per i danni subiti. I viaggiatori sono rimasti bloccati a lungo e poi trasportati in Molise con un pullman. Risultato? Quattro ore di ritardo e infiniti disagi. E adesso la cronaca con la tragedia del mare avvenuta ieri a Termoli dove un giovane profugo originario della costa d'Avorio è annegato proprio davanti agli occhi dei suoi amici. Sentiamo il servizio. Dal mare era arrivato in Italia dopo un lungo viaggio iniziato in Africa e fatto di fatiche e di stenti. Una nuova vita nel centro di accoglienza di Termoli ma per lui il mare è stato anche fatale. Un bagno insieme agli amici vicino alla scogliera quando per cause da accertare Conso Berte, 21 anni, originario della costa d'Avorio, è morto. Forse si è sentito male vicino agli scogli, ha bevuto e non è riuscito a tornare verso la spiaggia. I suoi amici vedendolo andare giù hanno dato l'allarme. Il bagnino dell'Ido Alcione lo ha soccorso e portato a riva per i primi interventi. Qui sono arrivati i sanitari del 118 e della Misericordia. A nulla però sono serviti i tentativi per rianimare il giovane emigrante anche con un defibrillatore. Tutto davanti ai turisti che affollavano la spiaggia e i compagni che appena hanno appreso della morte del ragazzo sono accorsi dal centro di accoglienza che si trova proprio lungo la strada. Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato di Termogli e la Capitaneria di Porto a certamenti necessari per fare chiarezza sulle cause della morte di Conso che si era ambientato in città, giocava a calcetto e si era fatto conoscere come un bravo ragazzo sotto shock gli amici con i quali ha condiviso questa breve esperienza in Italia. Sono stati proprio loro a chiedere di poterlo portare in spalla dalla spiaggia fino alla strada. Prima della partenza ancora un momento di raccoglimento, una preghiera comunitaria davanti a quella che era diventata la sua nuova casa, il ricordo degli amici prima dell'ultimo saluto. Si accentua la crisi del settore dell'edilizia con 339 imprese chiuse, 5.500 disoccupati, in più è un calo dei bandi pubblici pari al 69% nel primo semestre 2015. La denuncia è arrivata dal presidente del Lance, Umberto Uliano, che ha attaccato duramente il governo regionale. Siamo alle catombe di un sistema che ha sempre trainato l'economia regionale, ha dichiarato Uliano. Sentiamo Giovanni Minicozzi. Una crisi, quella del settore dell'edilizia e dei lavori pubblici, che dura da qualche anno ma che si è accentuata negli ultimi mesi portando imprese e lavoratori al collasso, pressoché totale, siamo alle catombe di un comparto che per anni ha trainato l'economia del Molise, ha dichiarato nei giorni scorsi il presidente dell'Associazione Nazionale, costruttore d'Iri, Umberto Uliano, il quale numeri alla mano ha attaccato duramente il governo regionale, l'ennesimo grido di allarme di una categoria alla canna del gas. Ormai non è più un grido di allarme, il grido di allarme in realtà noi l'abbiamo lanciato esattamente all'inizio dell'anno scorso quando in modo lambante veniva rappresentato quale poteva essere lo scenario del nostro comparto negli anni a seguire. Lo abbiamo lanciato con forza, lo abbiamo replicato poi a fine anno scorso, esattamente nel novembre, in cui tutti quanti ricorderete la retta aperta che poi tanto clamore fece anche sulla stampa per le repliche che ha avuto. Adesso registriamo solamente un dato, né più né meno, esattamente quello che noi immaginiamo potesse accadere è accaduto. 339 imprese hanno chiuso, solo nel primo semestre del 2015 registriamo un meno 25% di occupazione e un calo dei bandi sempre e solo nel primo semestre del 2015 del 64%, credo, 69%. Registriamo in realtà la fine di un settore che è stato sempre elemento trainante nella nostra regione. In termini occupazionali quanti posti di lavoro si sono persi? Non meno di 5.500-6.000 posti di lavoro, senza ombra di dubbio, insomma, ma questo l'abbiamo in diverse occasioni rappresentato, la massa salaria è scesa da 60 milioni di euro a 26 milioni di euro, 25 credo, addirittura, adesso i dati aggiornatissimi non li ho, però insomma stiamo parlando di un'ecatombe, di un settore che ha rappresentato, potrebbe ancora rappresentare, ma i margini sono veramente ridottissimi, ripeto, ha rappresentato un volano importante per l'economia regionale. Ora ci sarebbero questi 91 milioni di euro da mettere in cantiere? Sulla politica ci siamo espressi diverse volte. Quello che io, l'unica cosa che ho chiesto, è una sorta di onestà intellettuale, nel senso che non si può rappresentare alle imprese, così come è accaduto nella conferenza stampa di inizio anno, la possibilità che nel corso del 2015 si sarebbero stati 92 milioni di opere, quindi lasciando immaginare l'impresa che è una boccata di ossigeno in termini di lavoro, non in termini di finanza, perché poi i pagamenti sono un'altra cosa. Ecco, non si può lasciare credere all'impresa che ciò sarebbe avvenuto, adesso registriamo invece che ormai siamo a metà anno, ma diciamo ormai settembre-ottobre da un punto di vista operativo, abbiamo ancora pochissimi progetti che sono esecutivi e quindi che possono essere posti in gara, in appalto. Ci dicono che entro il 31 dicembre tutto verrà messo in appalto perché altrimenti questi fondi verranno persi, noi ci auguriamo che sia così, sarebbe altrimenti l'ennesima promessa che è venuta a meno. Dei tanti progetti annunciati, di certo quello della famigerata metropolitana leggera sarà pronto per fine anno. Il sindacato Gilda degli Insegnanti sul piede di guerra contro la riforma della scuola varata dal governo Renzi. In una nota i rappresentanti sindacali annunciano l'avvio di una serie di iniziative per la costituzione di un comitato promotore referendario contro la legge. Riteniamo che il provvedimento leda profondamente i principi sui quali dovrebbe essere fondata la scuola pubblica statale, ha dichiarato il coordinatore regionale per il Molise Michele Paduano. E verso la soluzione e l'avvertenza dei lavoratori del centro per l'impiego di Isernia, regione e provincia, hanno trovato l'accordo per il pagamento degli stipendi arretrati attesi da oltre un anno. Il nostro servizio, sentiamo. Da oltre un anno lavorano senza ricevere lo stipendio. Per l'esattezza sono 13 le mensilità arretrate, ma ora per i lavoratori a progetto del centro per l'impiego della provincia di Isernia si aprono nuovi spiragli. Durante un incontro che si è tenuto in prefettura, sollecitato dall'unione sindacale di base, la regione, la provincia e i sindacati hanno trovato l'intesa. Una prima parte degli arretrati sarà pagata non appena l'ente di via aberta riceverà i soldi dalla regione, presumibilmente entro la metà di agosto. Il pagamento successivo è previsto per settembre. Per la restante parte bisogna perfezionare una serie di adempimenti burocratici, ma il tutto dovrebbe avvenire in tempi ragionevoli. A questo punto resta solo da conoscere il futuro di questi lavoratori, visto che le province stanno per essere smantellate. Ma ora la priorità è rappresentata dagli arretrati. Il primo importante risultato raggiunto è stato accolto con soddisfazione dai segretari della UIL, Tecla Boccardo, e della USB, Sergio Calce. La lotta dei lavoratori paga. Siamo arrivati al punto che l'avvertenza inerente i lavoratori del centro dell'impiego di Serni, che vantavano 13 mensilità. Mi auguro che oggi si sia risolto. Dopo l'incontro alla Prefettura abbiamo messo nero su bianco che entro metà agosto venga pagato il 40% delle spettanze, che erano 13 mesi, e l'altro 60% entro la fine di settembre. Questo è un incontro importantissimo, una valutazione ottima, perché dopo tante richieste l'incontro, assemblee da parte nostra e da parte del personale, oggi siamo aggiunti a un primo incontro, a un primo punto. Noi ci auguriamo che quello che abbiamo sottoscritto nei prossimi giorni diventi realtà. 13 mensilità sono troppe. Sappiamo noi come gira l'economia oggi e io penso che oggi possiamo ritenerci soddisfatti. Saremo vigili nei prossimi giorni affinché tutto quello sottoscritto si realizzi. Importante scoperta all'Istituto di ricerca Neuromed di Pozzilli. Dopo una serie di indagini in laboratorio, è emerso come la lattoferrina, proteina presente nel latte materno, nella saliva e nelle lacrime, riesce ad avere la capacità di inibire lo sviluppo delle cellule del glioblastoma, uno dei più diffusi tumori cerebrali. Fieri di questi primi risultati ottenuti, il neurome dei responsabili della ricerca hanno ribadito che intendono anche in futuro approfondire quanto scoperto fino ad ora. La ricerca è stata pubblicata sul Journal of Neurosurgery. Il dentino del paleolitico tornerà presto a Isernia, ma sarà messo sotto chiave perché è un reperto di inestimabile valore. Lo ha detto il professor Carlo Peretto dell'Università di Ferrara, il servizio di Enzo Di Gaetano. Giornata di studio al paleolitico di Isernia con l'Università di Ferrara e con il professor Peretto per illustrare lo stato della ricerca sul sito e i risultati degli esami scientifici effettuati sul dentino da latte ritrovato nel corso degli scavi. Un reperto dal valore scientifico enorme perché testimonia la presenza dell'uomo nell'Italia centro-meridionale almeno 600.000 anni fa. L'incontro a cui hanno partecipato i nomi più importanti della ricerca paleontologica europea è stato resto possibile anche grazie al sostegno del Rotary di Isernia e in particolare della presidente Gabriella Marinelli e del consigliere Enzo Di Luozzo che si sono adoperati per organizzazione logistica. Assenti, come era prevedibile, conoscendoli bene, i vertici delle istituzioni. Nell'ordine non c'erano né il presidente della regione né quello della provincia oltre che sindaco. Sicuramente avevano cose più importanti da fare a dimostrazione che la cultura e il turismo culturale, vere risorse per il nostro Molise, sono poco interessanti per loro. In rappresentanza della regione il consigliere delegato alla cultura Ioffredi, mentre l'amministrazione comunale di Isernia, che avrebbe dovuto organizzare e sostenere l'iniziativa, è stata rappresentata dalla sola Bici Antonelli che, ad onor del vero, se l'è cavata anche abbastanza bene. Ma i nostri politici, i cosiddetti vertici, li conosciamo ed è perfino inutile sottolinearne gli errori infiniti. Ma torniamo al dente di Isernia, che tornerà presto nel capoluogo Pentro, ma dovrà finire sotto chiave perché è troppo prezioso per la ricerca scientifica internazionale, come conferma il professor Peretto, che da lontano 78 per l'Università di Ferrara, concessionaria degli scavi, coordina la ricerca scientifica sul paleolitico. Quando tornerà il dentino di Isernia, professore? Io penso presto. Io credo che però si potrebbe già risolvere la questione, come ha visto, anche con delle coppie, eccetera. Perché l'originale è meglio tenerlo sotto chiave, questo è il mio consiglio. Quando l'iter degli studi sono finiti, adesso abbiamo alcune altre cose da fare nei prossimi mesi, ma spero che per la fine dell'anno ce la facciamo, o la primavera o l'anno prossimo. Tra un anno ci vediamo e arriviamo col tente. Prospettive per il sito di Isernia? A continuare a scavare e lavorare a pieno ritmo e pubblicando. Adesso abbiamo addirittura dei dottorandi che studiano, degli specializzanti che studiano le industrie, le faune, che vengono tutto il mondo. Abbiamo anche un indiano qui con noi, un colombiano e poi altri di altri paesi, oltre gli italiani, oltre anche i molisani, perché abbiamo degli studenti iscritti alla laurea magistrale e anche che si tenteranno di iscriversi al dottorato proprio del Molise. Ma a chi apparteneva davvero il dentino di Isernia? Lo abbiamo chiesto ad una giovane ricercatrice francese dell'Università di Ferrara. Questo dente apparteneva sicuramente a un bambino di circa 5-6 anni. Non sappiamo esattamente se il dente è stato perso in vita o meno. Noi pensiamo che forse il bambino sia morto perché la radice del dente è stata riassorbita, ma non completamente, praticamente a metà, e quindi si potrebbe trattare di un bambino deceduto a circa 5-6 anni o di un bambino che abbia perso il dente giocando, cadendo, eccetera. Poi il dente ci dà informazione soprattutto sulla variabilità morfologica delle popolazioni che si trovano in Europa a 600 mila anni. I migliori prodotti della tavola molisana protagonisti al Bella Vita London Expo, una vetrina internazionale dove il Molise ha ricevuto molti riconoscimenti per l'alta qualità dei prodotti di ben 8 aziende della regione impegnate nel settore agroalimentare. Internazionalizzare la propria impresa ed esportare le eccellenze molisane, ha affermato Pasquale Oriente, presidente di ASEC Confesercenti, è l'unica soluzione per uscire dalla crisi. Siamo orgogliosi che sul New York Times si parli della cucina molisana, ha aggiunto Oriente, risultato che finora nessuno aveva ancora raggiunto. Ed è tutto pronto a Ielsi per i festeggiamenti in onore di Sant'Anna, dove tra tralie e mietitura nei campi e carri con il grano si respira un'area di grande fermento e dinamicità. Fa il punto della situazione in questo servizio Valeria Farina. È tutto pronto ormai per la 210 edizione della festa di Sant'Anna a Ielsi. Il fermento e le emozioni che si respirano in paese sono palpabili e fortissimi. Un 26 luglio, come sempre atteso e celebrato da tutta la comunità ielsese, che culminerà con l'evento Clou domenica mattina alla sfilata dei carri e delle traglie, che rimarranno poi esposti fino al pomeriggio, aspettando l'attesissimo concerto di Paolo Belli, previsto in serata. Ielsi si appresta a vivere tutto questo dopo un'altra intensa settimana, durante la quale ha fatto conoscere all'Expo di Milano la propria cultura e le proprie tradizioni insieme alla scuola delle trecce e delle traglie realizzate in grano. Siamo qui per portare la nostra festa alla ribarta internazionale, infatti abbiamo deciso di portare quattro ragazzi della Proloco di Ielsi a realizzare le trecce e i cordoni di paglia e a far vedere a tutti i turisti come si lavora il grano. Infatti quest'anno siamo arrivati alla 210 edizione della festa del grano, che ci caratterizza e ci dà risalto e splendore in tutto il Molise, in tutta Italia e in tutto il mondo. È arrivato a Ielsi in occasione della festa di Sant'Anna un gruppo di giovani canadesi oriundi del paese che già da qualche giorno hanno preso parte a diverse iniziative, tra cui la mietitura del grano e la realizzazione di un carro che sfilerà domenica. Del gruppo di canadesi fa parte Sabrina Martino, giovane soprano promessa della lirica, che il 26 canterà l'Ave Maria in onore di Sant'Anna. A noi ci fa molto piacere di trasmettere i valori dei genitori, i valori dei nonni. I bambini sono contenti di venire e sono contenti pure di partecipare alle attività, di fare le traglie, di imparare e di sapere che c'è questa bella cultura che possono apprendere. Nell'ambito dei festeggiamenti in onore di Sant'Anna, il 27 luglio ci sarà l'arrivo a Ielsi del patriarca di Baghdad, Monsignor Luis Sacco, a cui è stato assegnato il premio Latraglia, Etnie e Comunità, per l'altissima capacità di dialogo interreligioso tra i diversi credi presenti in Iraq. La direzione artistica del premio è del regista Pierluigi Giorgio. Due convegni per parlare di web e sviluppo delle eccellenze. L'iniziativa, che ha visto anche momenti culturali e di spettacolo, si è svolta a Ferrazzano. Sentiamo. Un percorso storico, culturale e no gastronomico per valorizzare le tradizioni della regione e porre l'attenzione sull'importanza del web per diffondere peculiarità, produzioni e professionalità. Si intitola Dalle strade italiche alle vie del web, l'evento promosso dall'associazione Vivi il tuo quartiere Colle dell'Orso e Centro Soluzioni Editoriali di Campobasso. L'iniziativa è stata ospitata da uno dei borghi più belli del Molise, quello di Ferrazzano. Oltre a momenti di spettacolo e no gastronomia e divertimento per le famiglie e visitatori, durante l'evento si sono tenuti anche due convegni a Palazzo Chiarulli, dove si è parlato dell'impatto della rivoluzione digitale della rete sullo sviluppo delle eccellenze, sull'istruzione e sulla comunicazione. Ma senz'altro può aprire opportunità veramente, veramente significative, perché io ve lo dico che essendo di Lucca ormai da dieci anni in Molise riesco a vedere tutte le notizie della mia città, sfruttando tutti i siti dei giornali, dei periodici, dei quotidiani online. L'altro giorno, per esempio, stavo a Benevento, quindi a pochi chilometri da qua, eppure lì si sta vivendo una stessa realtà. La carta stampata è in una fase di un certo riflusso, purtroppo, la crisi economica incide. Invece i siti web si stanno moltiplicando. Con una spesa minore si riescono a ottenere dei servizi anche maggiori. Penso, per esempio, alle fotografie, alla possibilità di inserire i video. Tutte quelle nuove tecnologie che permettono a un lettore di farsi delle notizie molto molto più precise rispetto alla nota e sempre storica, importante, carta stampata. Io penso che il Molise e il Meridione in generale abbiano una costellazione di eccellenze agroalimentari. Inutile elencarle, sarebbe superfluo. Tali eccellenze forse da sole non riescono a volare in alto. Però all'interno di una rete proficua, una rete turistica, enogastronomica, culturale, dove anche la ricerca e le innovazioni possono svolgere un ruolo importante e preminente, secondo me possono essere veramente un volano per il settore agroalimentare molisano. Era questo l'ultimo servizio per questa edizione. Vi ricordo dopo la sigla le previsioni del tempo, poi la linea ai colleghi dello sport. L'informazione di Telemolise torna alle 15. Grazie di averci preferito e a più tardi.